Ci troviamo di fronte al ponte di Tiberio di Rimini, c'è profumo di montagna sulla costa perché è finalmente arrivata la quattro giorni della donata nazionale degli alpini. La giornata di sabato a Rimini ha visto migliaia di persone riversarsi sul parco 25 aprile di fronte al ponte di Tiberio per il lancio dei paracadutisti, tutti con il naso all'insù per assistere ai volteggi in area del tricolore atterrato fra gli applausi dei presenti. Ogni aiuola è stata l'occasione per montare tende o parcheggiare camper a Rimini, in maniera anche un po' improvvisata. Il clima è di festa per essersi ritrovati dopo due anni di pandemia. Ora innanzitutto dove venite? Noi veniamo da Bergamo, alza bandiera al mattino e pomeriggio visita la città. Che città avete trovato? L'accoglienza come è stata? Benissimo, l'accoglienza buona, bella, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo anche adesso. E siamo stati accolti molto bene qua a Rimini e speriamo anche per gli altri che arrivano adesso. Perché siete tantissimi, sono 450.000 le presenze stimate in queste quattro giorni, quindi davvero un'invasione pacifica che sta rendendo questa città quasi come se fosse Ferragosto anticipato. Speriamo, speriamo bene, dai. Però ci voleva questa ripartenza? Ci voleva sì, poi noi che abbiamo fatto l'ospedale da campo in Bergamo e questa qua ci voleva, ci voleva sì. Per tutto il discorso del Covid, due anni senza adunata, non è dura, però ci siamo un po' persi insomma, noi alpini. Adesso qui ci stiamo ritrovando bene, dai. Grazie. Grazie. Grazie.